bella a tutti asfaltoni benvenuti su leon tube eccoci qui su asfalt 9 legend per switch per la consueta rubrica del venerdì dove andiamo a vedere le novità che vengono introdotte il venerdì e andiamo subito negli eventi speciali dove troviamo sempre il syndagate ancora il grand prix della zembo ancora ferrari aperta e eccolo qua la caccia all'auto a cura nsx gt3 evo una caccia all'auto che dura dieci giorni quest'auto non ha moltissimi progetti sono circa non circa sono 134 progetti e qui molto probabilmente sicuramente ora andiamo a vedere si vincerà la chiave abbiamo 999 condizioni da fare da poter fare per andare a prendere i progetti che ci servono 5 garantiti con la ferrari f40 5 garantiti con l'arsvani beast x e una volta portata l'auto a 5 stelle avete la possibilità di andare a prendere la chiave e io ho già la chiave di quest'auto e vado a fare comunque avendo già l'auto posso comunque vincere la chiave che si tramuterà in gettoni in monete rosse quindi andiamo a fare questa gara corta facile ovviamente non è difficilissima da fare le tre condizioni dobbiamo rispettare le auto richieste che dopo abbiamo visto gli 11 progetti garantiti i 10 5 5 con le auto dette prima più 1 completando la gara per la chiave invece dovete avere quest'auto la cura a 5 stelle e questo ci riuscite ovviamente con grazie alla caccia l'auto 10 giorni non sono pochi è più lunga di 4 3 4 giorni 3 giorni dai rispetto alla classica anche quattro giorni ok 50 devo fare molto meglio ovviamente andiamo a prendere 1 2 3 4 premi due pacchetti e poi vedete se completate con l'auto classe di da da prendere sempre tre pacchetti quindi c'è sempre la possibilità di prendere i tre pacchetti perché una volta finiti e queste due qua andate con un'auto di classe di per prendere tre pacchetti ok andiamo a riscuotere questo premio eccola qua la chiave che ci dà mille monete rosse se avete ovviamente il pass con già gli i bonus ne avrete presi ne prenderete senz'altro di più perfetto poi alla fine ci sarà il riot come tutte le auto il 4 agosto dove poter andare a prendere pezzi di importazione pacchetti dove poter trovare pezzi di importazione e pacchetti come tutte le auto che poter trovare pezzi di importazione e pacchetti che poter trovare pezzi di ultimamente avete visto quindi questo evento speciale la novità di questo venerdì ovviamente potranno uscire altre novità in settimana come ultimamente ci ha da sempre ma ultimamente un po più ci ha abituato game loft allora allora qui abbiamo ancora l'evento bring the hit dove andare a prendere questo dura tutta la stagione ancora 33 giorni dove andare a prendere i gettoni con le auto richieste qui c'è il nuovo evento national soccer day ok quindi giornata nazionale del calcio dove andiamo a prendere dei bei premi perché andiamo a prendere il premio classifica che sono un po' i classici premi però vanno bene livello c s a b quindi buono e poi premi per singolo quindi andiamo a prendere un po di credito e dei pacchetti oltre a andiamo a vedere 10 quindi fino a 40 gettoni ok qui che livello sono abbi ok possiamo trovare pacchetto base spesi di importazione pacchetto un po' più bello diciamo ma niente di particolare qui invece progetti premi club scusate andiamo a prendere 50 gettoni quindi ci andiamo a fare le gare andiamo a prendere 40 e 50 che sono 90 ok l'obiettivo 2 360 e 4 acrobazie perfetto queste sono le auto da usare tutte in prova gratuita dove possiamo fare del nostro meglio evento corto 4 giorni se non ho visto male ok eccoci qui ho la pista 4 acrobazie 4 acrobazie 4 acrobazie 8 acrobazie ecco cio 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 ok dovremmo aver fatto gli obiettivi per andare a prendere i crediti e i gettoni e andiamo a vedere se ci Perfetto, ora li andiamo a completare Andiamo a vedere se abbiamo preso anche Per il club Ah, sono di più Ah no, 40, sì, sì, ok Eccoli qua, questi li abbiamo Fatti, perfetto, dobbiamo aspettare Solo qualche nostro Compagno di club, adesso andiamo a fare ancora Un'altra garettina Dobbiamo farne minimo 4 per prendere tutti i gettoni E poi ovviamente ci sono anche tutti i crediti da prendere Sembrano pochi, ma alla fine Tutto fa brodo Soprattutto quando sarete negli Livelli garage più alti Dove potenziare le auto Potenti, S e AMA S Costa molto Preso Ok, l'hanno fatto Secondo me La casa è melicotta Ok Andiamo a vedere se me li ha contati Quelli là Altrimenti è gara persa Perfetto, li ha contati E ora andiamo a fare Le prossime due Quando avremo Di nuovo La benzina Intanto in settimana è uscito anche questo evento qua Giornaliero La fine di Mazzuri Mi sembra sia uscito ieri Non ho fatto un video di questo Perché I premi sono abbastanza Base Praticamente sono Questi sono progetti Per chi è all'inizio Diciamo Vi aiutano un po' E ho fatto comunque la gara Per andare a prendere i crediti del club Perché se qualcuno ha bisogno di queste auto È bene che il club le faccia E poi abbiamo la classe S Dove io non ho l'auto Questa è già da ieri sera È sicuramente stata resa disponibile Dobbiamo avere la Nevera La tua Tara E la Venom F5 Per poter partecipare a questo evento Dove si vanno a prendere Gettoni Un bel po' di gettoni Qui intanto andiamo a ritirare I premi quotidiani Questi per ritirarli Dovete essere A livello garage 12 Da quel momento si attiva il ritiro automatico Dei premi Che è molto comodo Perché così vedete Andate a fare le auto Senza Dover giocare le gare E andate a fare anche i crediti Perché vale anche per la corsa i crediti Qui Basta avere l'auto Di una determinata stella Per andare a prendere questi premi qua Quindi Se avete un'auto a 6 stelle Basta averla a 6 stelle Andate a prendere anche questi 80.000 crediti Al giorno in più Io adesso Qui ovviamente le ho tutte Se l'avete a 5 Prendete fino ai 60.000 Li prendete tutti Fino ai 60.000 E sono un bel po' qui Ok Quella là qua Quindi qui nel giornaliero Diciamo che non c'è Molta roba Perfetto Multigiocatore MP1 Multiplayer 1 Che continua Ok Qui abbiamo ritirato il premio Multiplayer 1 Che continua ancora Per una settimana Multiplayer 2 Nuovo Con la Zenvo TSRS E l'auto del Grand Prix Traguardi Sono un po' Quindi fino a 6.000 Ma premi carini Perché andiamo a prendere 3 progetti Altri 3 progetti Quindi sono 6 progetti 9 progetti Buono E Un pezzo di importazione Epico Quindi questo ci può Un po' aiutare Anche nel Grand Prix Se riuscite a farlo In modo veloce Se vi mancano dei progetti E Buono I premi Per le posizioni Dove andare a prendere Altri progetti Oh Mi piacciono questi premi Sì Qui ovviamente si aumenta 2000-1005 Anche posizioni Non esagerate Addirittura Pacchetti dove poter Prendere la chiave No la chiave Qui c'è proprio la chiave Ragazzi Per i primi 333 In classifica E il primo Prende anche L'adesivo Della Zenvo Quindi È beato Chi riuscirà Ad arrivare Nelle prime 333 posizioni Perché avrà La chiave Quindi anche Non vincendo Il Grand Prix Comunque Non arrivando Nelle posizioni Se per caso Riusciste ad arrivare Qui Potrete vincere La chiave Ovviamente Ci auguriamo Che chi abbia vinto La chiave Nel Grand Prix Lascia il posto A chi non l'ha vinta Anche se C'è l'adesivo Potrebbe far gola A qualcuno Ma non lo so Questo venerdì Non è stato messo L'uno contro uno È stato tolto L'uno contro uno Cioè Finito E non è stato rinnovato Peccato Perché Molto probabilmente È stato tolto Perché non lo gioca nessuno Ma avendo Come premi Solo dei crediti E non progetti A token Come era successo Una sola volta Era molto più gratificante Quindi si gioca di più Così con i crediti Non ha molto senso Far tutte quelle gare Per un po' di crediti Allora Ok Qui stagione club È iniziata La nuova fase Del clash Gare veloce Ok Carriera Sono sempre le stesse Sì è stata aggiunta Una nuova Stagione Nella carriera Ma Qui in avanti Dovete aver fatte Tutte Questa qua La sunraiser Io adesso Non l'ho Non l'ho sbloccata Devo ancora finire Queste Queste fasi qua Della carriera Sono al 63% Alcune probabilmente Non le finirò mai Allora Andiamo a vedere L'ultima parte Del video Con le missioni Stagionali Dell'episodio 3 Partiamo Come sempre Dal basso Alcune sono già state fatte Perché sono semplici Quindi Esegui salti In una singola corsa 5 Completa corsa Nel multigiocatore 10 Esegui Onde nitro Negli eventi giornalieri Ok Quindi tutte le missioni Giornaliere Dobbiamo fare Delle onde nitro Esegui avvitamenti In una singola corsa 5 avvitamenti In una singola corsa Con un'auto Di classe C Che sia almeno Di 3 stelle Quindi anche questa È abbastanza Semplice Ad esempio La possiamo fare Anche questa Nei giornalieri A questo punto Andiamo a fare Andiamo a fare Subito Andiamo a fare Questa qua E tra l'altro Non è stata messa Nei giornalieri La caccia All'auto Ok La facciamo qui Con l'auto Di classe C 5 avvitamenti Prendiamo Proprio lei No prendiamo Questa 5 avvitamenti E Unde nitro Quindi Andiamo a finire Le unde nitro Erano 15 Eravamo 6 Ne dovrebbero mancare 9 Vediamo se Si riescono a fare Tempo corto Forse non è adatta Questa vista Allora Forse l'ho detto Troppo presto Potrebbe non essere adatta Per fare 5 avvitamenti Infatti Si Questa non è adatta Come pista Vabbè Andiamo a fare Un po' di unde nitro Perché C'è solo Questa rampa Qui Dopo l'ocupo a sinistra Dove poter Fare gli avvitamenti Ah no Si Bisogna prenderla Bene Un po' a taglio Quindi Niente da fare Ok Allora Quindi qui Non era la gara Per fare Gli avvitamenti Però abbiamo fatto L'altra missione Parecchio Un denitro So se l'ho completata Non le ho contate No Ok Non le ho finite Ah si si Eccolo qua Perfetto Allora Dobbiamo andare a cercare Un'altra pista Con un'auto Di classe C Ovviamente Potete farlo anche Nel multigiocatore I 5 avvitamenti E quindi Non stiamo ad andare a vedere Dove farli Perché si possono fare Addirittura Vediamo un po' un attimo Qui Il riot Anche qui Se avete sbloccato L'auto Che è di classe C Perfetto Possiamo farla Anche con questa Quindi la andiamo a fare Visto che È da fare Io spesso Questa pista Questa gara Il riot Bello dimentico Sia perché Non riesco A prendere Gran premi Essendo auto Se non hai l'auto Potenziata È più difficile Arrivare Su in classifica Ovviamente Per chi è bravo Se il discorso Non vale Anche perché Poi le piste Sono sempre Abbastanza lunghe Va Di circa Intorno ai 2 minuti Quindi da 42 minuti Per chi è e lì c'era una rampa da prendere perché mi sono dimenticato di fare gli avvitamenti che siamo in piena metà pista non ci credo non ci credo dai ok avvitamenti fatti qui quindi andiamo a fare anche le odde nitro essendo una vista molto lunga potete farle tranquillamente qua tutte e due le missioni non ho visto se ce n'erano altre da fare e magari riuscivano a fare anche quelle qua e avete visto infatti è l'ordine dei due minuti ok tempaccio considerando anche l'incidente ora andiamo a vedere che abbiamo fatto quella degli avvitamenti perfetto andiamo a vedere le altre anche se ora ho finito i crediti i ticket quindi andremo solo a vedere dove farle tempo con nitro nel multigiocatore ok fare il multigiocatore sparare il nitro ghiotta occasione quella di fare l'mp2 e segui nitro perfetti in una singola corsa nell'evento caccia all'auto ok questo lo facciamo nell'evento speciale ok questo lo facciamo nell'evento speciale caccia all'auto della akura nsx gt3 evo questo qua ok lo andiamo a fare ok eccolo qua nitro perfetti se non erro ok 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 Anche qui potete fare La gara degli avvitamenti La missione degli avvitamenti In quanto questa è una auto classe C Quindi c'è l'imbrasso della scelta Dove andarla a fare Mi sono dimenticato di fare i nitro perfetti Va bene lo stesso Comunque la fate quindi qui Fate diverse missioni Ah no ok Li avevo fatti un po' smesso perfetto Li fate qui ovviamente In questa gara ne fate tante Quindi di missioni già tre solo con questa Poi andiamo a vedere le altre Non nel negozio Installa pezzi di importazione Fai salire di livello un'auto come solito Dobbiamo far salire di livello un'auto Quindi sbloccare anche un'auto di quella che abbiamo nel garage O portare un'auto a un livello successivo Esegui espulsioni 360 in una singola corsa Qui dobbiamo fare tre espulsioni 360 con un'auto che abbia almeno grado 1200 Anche questa la potete fare lì nella caccia all'auto se ce la fate Le espulsioni vanno fatte con il 360 Quindi sparare un bel 360 quando siamo vicini a un'auto Arriva primo negli eventi Tempo di vacanze McLaren 765LT Mi sembra che questo evento non ci sia ancora O è uno vecchio quindi lo andiamo a vedere Arriva primo nel multigiocatore nelle piste di nevada e San Francisco Quindi obiettivi abbastanza alla portata Andiamo a vedere negli eventi giornalieri Dove si può fare questo qui Allora andiamo a vedere Tempo di vacanza L'ombra delle valve Questo qua L'auto Eccola qua La McLaren 750LT Quindi lo possiamo fare Tranquillamente In questa gara Adesso lo andiamo a fare Arriva primo Proviamo a fare anche i 360 Visto che ci siamo Una l'abbiamo subito fatta Due Due Tre Ok per sicurezza abbiamo fatto anche il quarto Perché questo contava Un'abbiamo subito Questa è la gamma Che sicura Che ci sono Quindi Grazie a tutti Ok andiamo a vedere se abbiamo fatto anche queste due Sempre un po' di suspense Arriva prima ovviamente abbia fatto i 360 Eccoli qua Quindi ce ne mancano davvero pochissime Quelle del multigiocatore 5 ce ne mancano Eccole qua Tempo con nitro Pezzi di installazione Fai salire un'auto Esegui espulsione onda nitro in Groenlandia Questa mi era sfuggita prima Arriva primo nel multigiocatore In Groenlandia quindi è Ok sono le nuove piste Della Groenlandia Non so se esiste un evento della Groenlandia Ma possiamo farle sicuramente nel syndagate andando avanti Solo che lì va giocato E quelle in Groenlandia Nelle prime fasi Di sicuro c'è la pista della Groenlandia E Il resto non me le ricordo Quelle fatte comunque non possiamo più farle E qui di sicuro ci sono Ok poi potrebbero essere In carriera Ora non lo posso vedere Nell'ultima Stagione Quella che abbiamo visto prima La nostra stagione della carriera E poi Probabilmente metteranno Un evento giornaliero In cui andare a partecipare in Groenlandia Queste mi sembra che non siano La Groenlandia è tutta pista ghiacciata Ok detto questo Ci salutiamo Ci vediamo presto Quindi venerdì prossimo Con la nuova rubrica Se usciranno altri eventi Faremo come sempre dei video Per segnalarvi E tenervi aggiornati Quindi cliccate la campanella Iscrivetevi al canale Per rimanere aggiornati sui video Sulle novità di Asphalt E magari anche Se avete qualche difficoltà Su qualche consiglio E niente Un bel mi piace Un saluto a tutti ragazzi E ci vediamo presto Con altri video Ciao 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 Ciao